Buongiorno a tutti, un cordiale saluto alle autorità e agli ospiti presenti e in particolare al Presidente Paoletti, all'amico Antonio, che mi ha invitato oggi ad intervenire. Finalmente si sta per realizzare quello che è stato un sogno, un progetto futuristico di rigenerazione urbana in grado di valorizzare un elemento centrale per la storia e la geografia di Trieste, il mare e il porto. Questo sogno diventa oggi realtà grazie innanzitutto alla tenacia personale di Antonio Paoletti e alla collaborazione determinata dell'istituzione del territorio, a partire dalla regione Friuli Venezia Giulia e dal suo Presidente Massimiliano Fedriga e ovviamente grazie alla Camera di Commercio. Con Parco del Mare, proprio la Camera di Commercio Venezia Giulia conferma una funzione storica delle Camere di Commercio italiane, il ruolo di visione e indirizzo economico che questi enti pubblici delle imprese esprimono sul proprio territorio di competenza. Ci è voluto tanto, ci è voluto tanto. Ma come spesso capita, la dico così, non tutto il male o il ritardo viene per nuocere. Quando il Presidente Paoletti, quando l'amico Antonio ha lanciato il progetto 19 anni fa, al massimo si poteva aspirare al 2.0. Oggi quello che si sta per realizzare è un Parco del Mare 5.0, 10.000 metri quadrati di hub digitale e di polo formativo innovativo per le nuove generazioni. Non solo quindi sostenibilità ambientale e recupero urbano, qui c'è l'idea di costruire luoghi dove fiorisce l'economia, nasce la socialità ed emerge l'innovazione. Con Parco del Mare Trieste sarà sicuramente una città più viva, all'altezza della sua grande storia tra terra e mare, che oggi fa del mare un rinnovato alleato. In bocca al lupo e mi prenoto già per venire di persona all'inaugurazione. Grazie.